Il 28 dicembre 1895, il fisico tedesco Wilhelm Konrad Röntgen annuncia la scoperta di radiazioni elettromagnetiche fino a quel momento sconosciute, che per questo motivo chiama raggi X. L'importanza di questa scoperta gli fa vincere il primo premio Nobel per la fisica. Röntgen eredita da alcuni colleghi le conoscenze sui raggi catodici. Incomincia a lavorarci usando un tubo a vuoto. I raggi catodici generati dal catodo all'interno del tubo vengono sparati contro un anodo e proprio qui, in corrispondenza dell'anodo, ma fuori dal tubo il fisico tedesco si accorge di qualcosa di strano. Su un foglio di carta posto vicino all'anodo si illumina una sagoma a forma di A che era stata disegnata con una sostanza fluorescente. A questo punto Röntgen mette la mano tra l'anodo e il foglio e quello che vede è l'ombra delle ossa della mano. Quindi i raggi catodici, urtando contro l'anodo del tubo a vuoto, generano una radiazione, sconosciuta fino a quel momento, che è capace di attraversare i tessuti molli del corpo. In seguito Röntgen inserisce una lastra fotografica per poter fissare l'immagine. La prima radiografia che ottiene è quella della mano sinistra della moglie Berta.